La fede dovrebbe essere una fede senza liturgia? La preghiera privata è quello che ognuno fa nel segreto della propria camera, vuol dire nella mente e nel cuore, rivolgendosi a Dio. Se liturgia è la preghiera corale che non deve essere fatta, semplicemente questo tipo di obiezione vuol dire che la fede è una questione che si risolve solo e unicamente fra me e ciò che penso o Dio come lo penso e via di questo passo. E dunque in questo senso la liturgia non è altro che un ritrovarci per fare dei gesti, dire delle parole che sono espressione della fede e si può anche farne a meno, anche perché tutte queste cose comportano, sempre secondo quest'idea naturalmente, comportano una serie di accettazioni di quelle che sono gli altri, certe tradizioni, certi modi di fare, che poco si attagliano, che poco hanno a che fare con il Dio così come io lo penso. Questa parola, liturgia, se intesa in questo senso è sbagliato, perché la liturgia è la preghiera corale della Chiesa che fa quello che Cristo ha comandato di fare. Fate questo in memoria di me. Dunque non si tratta di una espressione tradizionale o convenzionale che noi facciamo, organizziamo un'assemblea e diciamo delle cose, ma ripetiamo ciò che Cristo ci ha detto di ripetere, ed è esattamente il centro di ogni azione liturgica, che è l'Eucaristia, quello che è avvenuto durante l'ultimo secolo. Il Giovedì Santo. Perché bisogna fare quello che Lui ha comandato, oltre alla grande preghiera del Padre nostro e di essere battezzati? Perché Lui l'ha chiesto perché è il modo con cui Dio interviene nella nostra vita privata per tirarci fuori da una situazione dalla quale non è sufficiente. Pensare a Dio o pregarlo. Bisogna accettare quello che Dio ha messo in moto, cioè il mezzo che ha messo in moto, per poterci tirare fuori e assecondare il nostro desiderio, che non è semplicemente di un Dio del conforto, ma della salvezza. La salvezza la si comprende non certo negli anni giovanili, ma quando abbiamo l'esperienza della vita che ci fa notare che le energie vengono meno, le ingiustizie attorno a noi aumentano, le nostre forze non sono sufficienti, se prima avevamo qualche idea molto ampia, neppure a fare quello che è in un raggio molto corto della vita privata, per cui si parte per cambiare il mondo e poi non riusciamo a cambiare la famiglia. E poi alla fine ci si accorge che non riusciamo a cambiare neanche noi stessi e soprattutto non riusciamo ad entrare in quello che è l'ambito della salvezza, cioè della vita eterna. Questo tipo di riflessioni, che è un po' più matura, è la condizione per cui la nostra preghiera chiede e dunque Dio ci salva, ma come Lui ha voluto salvarci. Questo come è, in altre parole, il sacramento. Liturgia, dunque, è celebrazione del sacramento. E il sacramento è, propriamente, l'intervento della forza e la potenza di Dio in un modo, in un tempo, che Lui ha stabilito attraverso ciò che Lui stesso ha creato, la materia. E la materia è dunque anche la nostra natura umana. Dunque, Egli prende la natura umana, è il Cristo che si incarna, e diventa sacramento per noi. Questo sacramento vuol dire che l'azione di Dio e la Sua presenza sono tutte quante presenti nella persona fisica del Cristo Gesù nato da Maria di Nazareth. Questo è il sacramento. Quando, infatti, Lui offre a noi l'Eucaristia e dice, fate queste memorie di me, dobbiamo dire le parole che Lui ha detto. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Chi mangia di questo pane e beve di questo vino, o meglio, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, questi avranno la vita eterna, io lo farò risorgere l'ultimo giorno. Dunque, il mezzo della salvezza passa attraverso il corpo di Gesù, il corpo fisico, la materia di Gesù. Gesù è il sacramento per eccellenza. E dunque, la liturgia non è semplicemente un ritrovarci per organizzare una priera, in certe chiese protestanti forse lo è perché non c'è la fede in un certo numero di sacramenti, ma è un ritrovarci per ripetere, fare quello che Gesù ci ha comandato. La cena del Signore, che ci dà attraverso questo pane che diventa la sua carne, il suo sangue, la sua stessa vita che è fisica e spirituale al tempo stesso, materiale e spirituale. Noi diventiamo una sola cosa con Lui, per cui quello che Lui ha fatto come uomo diventa la nostra eredità. Lo dice San Paolo proprio in questo brano, le tre romani che abbiamo appena letto, e dice, fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù? Siamo stati battezzati nella sua morte, che vuol dire il battesimo è il segno della morte dell'uomo vecchio perché possa risorgere un uomo nuovo che è il Cristo stesso che si innesta nel nostro corpo, nella nostra anima. Una parte di noi deve morire e noi dobbiamo accettarlo, e una parte risorge quello che il Cristo ha messo in noi. Lui, facendo questo, ha fatto quello che noi non sapremmo fare. Ha immerso se stesso con la sua natura umana nel fondo dei nostri peccati e in tutte le conseguenze, sofferenza, ingiustizia, incomprensione, morte. Ci è passato e ha detto, io do la mia vita e la riprendo. Quindi non ha fatto finta di morire, è morto veramente e se l'è ripresa, è risorto. Quindi dice, chi mi dà la mano e diventa parte di me, compie lo stesso percorso che io ho fatto. Se dunque tutti gli uomini vanno nella morte, risorgono quelli che sono tenuti per mano dal Cristo e quindi continuano questo percorso, ma risorgono. E proprio San Paolo, la lettera ai Galati dice proprio afferrati da Cristo, afferrati, siamo presi su. E questo a essere presi su non è che accade senza il nostro consenso. Accade col nostro consenso qui, adesso ed ora, perché noi partecipiamo di quello che Lui ha fatto. Solo che Lui ha fatto il percorso che noi non sappiamo fare e ci chiede di essere uniti a Lui. Il battesimo non è un rito di iscrizione all'anagrafe dei cristiani. E' il rito, come dice San Paolo, che ci fa seppellire nella morte con Cristo, ma con la speranza di risorgere con Lui, perché Lui l'ha promesso. La nostra speranza cristiana non è che andrà tutto bene, è che risorgeremo e andremo in una situazione che è molto di più che tutto bene. E' il regno della vita eterna con un corpo risorto. Infatti dice, ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo risorto dai morti non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Dunque, tornando alla questione, non esiste una fede staccata dalla liturgia, e non può esistere una liturgia staccata dalla fede, perché la liturgia è celebrazione del sacramento, della vita, così come Dio ce la dà, attraverso la sua stessa vita di uomo che diventa per noi quella mano che ci tiene e ci porta da Lui. E' noto questo, che sempre più nei credenti, ma soprattutto quelli che sono credenti a distanza, o quelli che credono in qualcosa, ma sono a una distanza ancora maggiore, io credo che quello che si gioca nella nostra fede è la non conoscenza del significato dei sacramenti. Perché se sapessimo quello che accade sull'altare, come disse Gesù in una rivelazione privata, strisceremmo davanti alle porte della Chiesa per chiedere misericordia e accedere al sacramento. Avviene invece il contrario. Noi non sappiamo, a volte ci sono dubbi di fede, ma qui nella nostra generazione non è più una questione di dubbio, è proprio una questione di mancanza di conoscenza di ciò che la nostra fede è. Non è un'idea, un'ideologia, un consortio di idee, qualcosa di convenzionale, è qualcosa che Dio dall'alto ci offre e ce l'offre col prezzo di una vita purissima che è la vita del Cristo. A noi spetta l'adesione e l'unione col Cristo. Ed è per questo che dice chi crede in me avrà la vita eterna e chiunque crederà a voi che io ho mandato crederà in me e dunque io gli darò la ricompensa perché la fede in Cristo si manifesta con questo passaggio di sacramentalità che è la Chiesa, che siamo noi il popolo di Dio. Ognuno di noi accoglie questa fede col battesimo, la ragiona, la sviluppa, l'accoglie, l'amplifica. Questa è la nostra responsabilità. E la insegna ai figli e ai nipoti. La insegna con le parole e con l'esempio. Non siamo perfetti, ma l'anima che crede sa guardare oltre l'imperfezione. Se noi invece guardiamo solo le imperfezioni è perché non vogliamo credere già a priori. Allora troviamo tutte le scuse, i motivi per dire ricordo solo del catechismo o ricordo solo di mia mamma o ricordo queste cose negative. Per me dunque la fede è da gettare. L'anima che si apre alla fede sa riconoscere in ogni insegnamento buono, da quello occasionale per strada a quello che si diceva in modo costante in casa. Si perfeziona qui anche nella Chiesa attraverso l'ascolto della parola e il catechismo, ma è un lavoro continuo. L'anima che sa dunque riconoscere nella fede trova la luce sempre. L'anima che non vuole la luce trova sempre i difetti per dire che non va bene, perché non vuole la luce. Noi dobbiamo essere dunque così profondamente aperti davanti a un mistero che si chiama così perché è qualcosa che è sostanzialmente oltre la barriera di ciò che si vede. Vedo il pane, ma la mia fede sa con perfetta coscienza che non è più pane, ma è diventato corpo di Cristo. Sento il bene, sento il giusto, sento le cose come dovrebbero essere. La mia mente e il mio cuore sanno che si riferiscono a un bene, a una giustizia, a una verità che esiste per se stesso, non è semplicemente il frutto di quello che noi facciamo. Le cose belle, le cose vere, le cose che sono, sentiamo e sappiamo che stanno al di là delle cose ed esistono per se stesse. Queste cose sono Dio stesso che si manifesta come verità, come luce, come limpidezza, come onestà, come purezza. E noi sentiamo che questi valori stanno in piedi perché sono per se stessi. quello che noi chiamiamo Dio e che lui poi insegna con la rivelazione. Ma ogni uomo sente queste cose. Ma se io non le voglio seguire, troverò sempre delle scuse per non seguire neanche i valori. Non voglio dire Dio, neanche i valori. ma c'è un Dio per tutti. Anche se non lo conosciamo di persona, sentiamo che il bene si chiama bene e va seguito. E se uno sceglie il male, fa male all'altro, sa che va a colpire qualcosa che sta al di là della persona stessa che ha colpito. Ha ucciso o ha fatto del male o ha tradito o ha ingannato sapendo di commettere qualcosa che è riprovevole. Ogni uomo sa questo. Questo è quello che ci aiuta a capire chi è Dio. Poi un giorno tutti quanti lo vedranno e lui ci dirà tu mi hai riconosciuto, ma io non ti ho mai conosciuto. Sì, quella volta che hai scelto il bene anziché il male, quella volta che sei stato caritatevole anziché egoista, quella volta tu l'hai fatto a me, come dice qui nel Vangelo. E allora uno riconoscerà che queste cose che ha seguito dal profondo della propria anima erano la luce di Dio che lo guidava ad andare oltre. E questa è la nostra fede. Ma noi che sappiamo? Sappiamo che tutto si realizza in un modo forte, deciso, inequivocabile e rimarrà sempre questo sacramento che è Cristo stesso. Non è un rito vuoto. è il rito sacramentale dove dice il Cristo questo pane è il mio corpo. Questo vino è il mio sangue. E questa è la nostra fede. Se l'ho dato Gesù Cristo. Grazie a tutti.